Ciao ragazze, finalmente mi ritrovo a filmare un nuovo video, scusatemi se in queste settimane non ho avuto modo di filmare nessun video, ma sono stata impegnata con i preparativi dei 25 anni dei miei genitori, quindi ho avuto altri pensieri per la testa, non avevo la testa e la calma per poter finire oggi, invece si incentra sui prodotti che ho utilizzato in quest'ultimo periodo e che diciamo in qualche modo sono pressoché tutti approvati e quindi volevo parlarvene per darvi un giudizio rapido e veloce su di essi, magari per esservi utili nei vostri successivi acquisti Partiamo dalla detergenza, dalla pulizia e cura del viso Allora, un prodotto che ho iniziato già a provare grazie alla bottega di Dio che mi ha omaggiato di questo prodotto è l'acqua di rose micellare di Alchemil Eco Biocosmetics Questa acqua di rose micellare è uno struccante valido sia per il viso che per gli occhi che per le labbra quindi per tutto il viso va benissimo ed è formulata a base di acqua distillata di rose infatti la profumazione ricorda proprio delle rose appena raccolte ed è davvero meravigliosa il tappetto, al solito io con i tappettini così sono negata infatti l'ho già rotto ed è una confezione di ben 500 ml quindi mezzo litro, potete starci tranquillamente per un bel po' di tempo tra gli ingredienti, oltre all'acqua distillata di rose troviamo l'estratto di rose damascena, di rose canina, di rosmarino e di salvia quindi diciamo molto validi anche per una pelle impura, grassa che ha bisogno proprio di essere pulita a fondo micellare è praticamente molto buona e per essere una lozione micellare vi devo dire che stucca davvero molto bene infatti io utilizzo i classici descrittini di cotone e vado a mettere un po' di prodotto all'interno come vedete la consistenza è giallina come si nota e stucca davvero molto bene non ha nulla da invidiare ha un bifasico stucca anche i diversi rossetti magari non del tutto biologici quali possono essere quelli che utilizzo io tipo Nabla o Mulac diciamo che mi trovo davvero molto bene non mi ha causato nessun tipo di problematica allergica irritazione, rossore, niente è molto delicata e proprio anche indicata per la pelle sensibile come la mia quindi al momento devo dire che lo posso promuovere quando invece riguarda la natura proprio del viso vi parlerei di questi due prodotti di cui a brevissimo troverete un post dedicato nel mio blog che sono due prodotti di mater natura allora questi qua sono la crema viso allenativa alla peonia che mi fu omaggiata ai tempi da Valeria di un e-commerce che ormai ha chiuso che è per me make up che ringrazio immensamente è il siero detrante con tornocchi e le frate che mi fu omaggiato da lo shop salute nella mystery box per le blogger qualche mese fa allora questi prodotti li ho provati in combo e devo dire che sono molto buoni questi qua sono i due prodotti inizio a parlarvi della crema viso velocemente la crema viso da Peronia è una crema viso lenitiva proprio indicata per pelle sensibile e samenti insomma è una crema davvero molto valida è una crema leggera arriva in questo tubettino qui bastano due o tre spruzzi massimo piccoli piccoli delle piccole dosi che vado a stendere nelle tre parti del viso idrata discretamente bene per me e per il mio tipo di pelle che è tendenzialmente secca ma non è eccessivamente secca va benissimo finisce, va a seccare i brufoletti mantiene diciamo un equilibrio cutaneo pertanto per il mio tipo di pelle va benissimo l'ha provato anche la mia collega e si è trovata anche lei molto bene nonostante avendo una pelle un po' più secca della mia nelle zone qua di naso comunque anche il viso stesso non riesce del tutto a nutrire la pelle profondamente in combo ho utilizzato questo che è il siero di tante contornocchia che dovrebbe essere anche un siero molto rinfrescante infatti ha proprio una consistenza acquosa leggera che va proprio per rinfrescare e in qualche modo distendere e idratare quello che è il contornocchi va benissimo secondo me a qualsiasi età dalle età più giovani quelle che possono essere 18 anni proprio per preparare diciamo il contornocchi e mantenerlo più giovane possibile prevenendo quelle che potrebbero essere la comparsa di rughe in età più matura quindi lo trovo diciamo molto valido lo utilizzo sempre diciamo che proprio ti rinfresca la zona del contornocchi e queste proprietà è già tante secondo me per chi non ha problematiche particolari di occhiaie o di rughette vanno secondo me benissimo come prodotto quindi davvero due prodotti molto buoni che vi straconsiglio se non sapete che non ha particolari esigenze di cui ci tengo a parlarvi è la crema mani di Green Energy Organics che mi è stata proprio mangiata dall'azienda in un ordine che ho fatto questa crema indicata per le mani e le unghie quindi anche per rinforzare le unghie per ammorbidire le cuticole ed evitarne la comparsa è arricchita con olio d'argan burro di cacao e burro di karité priva di qualsiasi schifezza contiene anche olio di girasole tocoferolo pantenolo la malva l'altea la calendula i accioli e tanti altri estratti ha una profumazione davvero buonissima che proprio ricorda la profumazione del cioccolato bianco o cioccolato al latte ed è una profumazione squisita davvero voglio quasi dimandarla più di Keddiar di stenderla ed inoltre la consistenza diciamo che ha un colorito giallino e diciamo è una consistenza corposa al punto giusto una buona dose potete tranquillamente assenderla nelle mani vedete che subito si assorbe non lasciandovi la pelle unta bensì potete subito andare a maneggiare ciò che avete necessità di utilizzare quindi quella che è questa qui la crema di Dottor Taffi Plus IHOP Breakfast Strong Action contro gli anestetismi del seno del Dottor T triple effetto modellante di polpante push up allora io ho preso questa crema non perché volevo ottenere chissà quale seno perché comunque io ho una non ho diciamo un gran seno nel senso che non ho essendo magra diciamo che è tutto proporzionato ma detto ciò mi interessava ottenere un effetto rassodante e tonificante del seno pertanto ho optato per questa crema di cui ho visto dalle recensioni di cui tutti parlano molto bene devo dirvi che mi sono trovata bene anche io la sto continuando ad utilizzare tutte le selme andare a letto applico una piccola noce in ogni seno e poi vado a massaggiarla fino a completo assorbimento noto che il seno è più sodo più nutrito a parte che è idratato i tessuti sono più compatti la pelle è più nutrita più curata più idratata quindi diciamo che noto quello che può essere l'effetto tonificante e rassodante magari push up se intendiamo che il seno può apparire un po' più alto va bene però chiaramente non sia un aumento di tagli ecco se è quello che cercate e chiaramente io personalmente penso che per quello si veda soltanto per via di operazioni siliconiche tra parentesi o di prodotti che non credo si possano trovare nella gamma del naturale tra crema quale può essere questa di Anthos che è la crema anticellulite senza alghe davvero una scoperta questo prodotto mi è stato omaggiato ciò maggio di sapone e sono stata davvero felice di aver avuto l'opportunità di provare allora questa crema ha al solito un barattolone al solito di 200 ml io l'ho quasi finita la consistenza diciamo che è bianca quindi niente di eclatante ed è molto liquida a differenza magari della rassodante che come pensavate è più corposa la profumazione ricorda molto quella che lamenta una profumazione molto fresca e la cosa che invece di questa crema è che basta poco prodotto si stende idrata a differenza magari di molte creme che fungono da sodanti tonificanti però poi idratano assolutamente quindi si deve ricorrere ad una doppia cura della pelle quella idratante e quella tonificante eccetera mentre questa fa il due in uno nel senso che tonifica assolutamente rende la pelle molto più elastica molto più compatta molto più facile da lavorare da gestire e allo stesso tempo nutre tantissimo la pelle e dà un effetto freddo immediato che è meraviglioso inoltre io personalmente ho notato che le smagliature che diciamo possiedo sono leggermente più chiare rispetto all'inizio di questo trattamento pertanto diciamo che ho rispondato dei buoni benefici con questo prodotto che mi sento di consigliarvi sicuramente se questo senza alghe ha questi risultati quello con le alghe sarà sicuramente ancora meglio però io preferisco utilizzarlo senza alghe è una cosa mia che preferisco evitare di utilizzare i prodotti di capelli invece vi parlerei di due prodotti che sto utilizzando ultimamente quali lo shampoo capelli secchi arnica e lavanda di Tela Natura che ho preso tempo fa da Ecco Verde e la maschera fragole e panna di Alchemilla tra le non riuscite allora questo shampoo ha una profumazione buonissima che proprio è un mix di arnica e lavanda e per quanto mi riguarda è uno shampoo molto idratante uno shampoo perlomeno molto distrigante idratante e quindi va benissimo per questo quindi riesce anche a rimuovere quella che è la forfora da un capello secco e molto trattato unica nota che vorrei fare è che purtroppo io avendo meno un capello più leggermente voluminoso già da subito noto che il capello tende ad afflosciarsi ad avere meno volume quindi da questo punto di vista non mi piace tantissimo poi è uno shampoo che vi lascia i capelli puliti per 5-6 giorni nel senso potete stare tranquillamente tranquilli se ovviamente avete i capelli secchi è uno shampoo molto buono e con cui mi sono trovato davvero discretamente bene passerei a quella che è la maschera fragole e panna davvero una squisitezza questa maschera intanto ha una profumazione che proprio ricorda le fruitelle davvero buonissima e la consistenza cioè già che la sto rendendo vorrei mangiarla e proprio niente se non la comprate non potete capirlo no vabbè paradisiaca proprio questa è la consistenza io l'ho utilizzata diverse volte sul mio capello e la trovo diciamo molto molto valida è una maschera infatti ristrutturante quindi ha la funzionalità di andare a ristrutturare far rinascere e rinvigodire il capello trattato da colore infono insomma e questa è la maschera diciamo che funziona davvero benissimo l'ho utilizzata alcune volte come preimpacco altre dopo lo shampoo devo dirvi che è una maschera che secondo me funziona solo dopo lo shampoo cioè come pre-shampoo noto che abbia proprio poco senso applicarla quindi se proprio dovete utilizzarla utilizzo dopo lo shampoo è molto nutriente davvero vi lascia i capelli che sono morbidissimi velidistrica la profumazione resta e permane anche dopo lo shampoo quindi è buonissima davvero ve la consiglio tantissimo devo ancora provare anche quella lucidante che sempre la stessa azienda mi ha inviato e vi farò sapere con quella come mi sono trovata infine serve per la cura del viso vi parlo anche di altri due prodotti ho questo stick protezione 25 di biohertz che ho trovato davvero molto valido lo utilizzo sotto la base del rossetto e devo dire che per quanto ha una leggerissima consistenza cerosa riesce tranquillamente a proteggere le labbra e inoltre il rossetto diciamo che si può tranquillamente applicare anche se la differenza tra quando si mette questa base sotto e quando non si mette sino ma da perché giustamente il rossetto dura un po' meno però magari chiaramente è più consigliabile mettere la preparazione delle labbra da quelle che sono con i nostri raggi solari infatti la differenza era anche notata quando mi faccio anche lo shampoo quando mi asciugo i capelli col fono stesso le mie labbra tendono a bruciare con queste alte temperature mentre utilizzando questo stick non ho avuto più questo problema vi consiglio di acquistare anche perché ha un costo davvero piccolissimo del viso voglio consigliarvi quella che è la spugna di cose della natura fine dama io ho preso quella grande mi sembra che sia da 8 grammi è davvero meravigliosa non so come ho fatto senza prima allora questa spugna io la utilizzo chiaramente per la detersione del viso ma anche il mattino la potete utilizzare sia tranquillamente con acqua corrente sia anche con un detergente abbinato io utilizzo quello di Alchimilla all'aloe vera sotto l'acqua subito si ammorbidisce e diventa una coccola come pelle a differenza di tutte le altre spugne proprio al minimesimo non vi lascia neanche vi rimuove proprio lo sporco al 100% davvero è top 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 veramente della persona invece vi parlo di questo profumo fior di loto seta fior di loto di dottor taffi ho preso una quantità nel formato 100 ml avevo un'emozione ragazze bellissima davvero ve lo straconsiglio make up vi parlo dei nuovi blossom blush di nabla cosmetics in particolare quello che mi sta piacendo tantissimo che non avevo dubbi è beloved che è questo qui il primo che è meraviglioso ed è quello che oggi indosso praticamente mi piace davvero tantissimo anche gli altri blossom blush sono davvero bellissimi ma questo è il momento è quello che mi piace di più sempre della stessa linea nabla cosmetics non posso che amare quella che è la brow divine nella tonalità mercury che è super indicata per la mia tipologia di sopracciglio per il mio colore poiché avendo anche una mina sottile riesce a definire il sopracciglio senza appesantire dando un effetto naturale meraviglioso la sua mobilità è altissima e proprio l'effetto mi piace tantissimo anche perché questa mina puntita a differenza della classica matita riesce a permette di creare un trucco sicuramente più professionale il prodotto in questo periodo è esposto ai prodotti del momento se tra quelli che vi ho elencato ce n'è qualcuno che vi piace in particolare e niente io spero che il video sia stato di vostro credimento io vi sia stata di compagnia ci vediamo al prossimo video ciao ciao